Il progetto per il piano di raccolta differenziata a Cremona deve essere ancora definito, c'è quindi margine per correggere eventuali criticità. Il comune di Cremona, che sta lavorando per portare la differenziata a tutta la città, dalle periferie al centro per un 65%, si apre al confronto nelle sedie opportune. La risposta agli amministratori di condominio dell'UNAI e dell'ANACI perplessi rispetto al rischio di un aumento di costi per il cittadino a seguito del nuovo servizio non si è fatta attendere come la rassicurazione sulla bontà del piano che implica, questo sì, un impegno da parte del cittadino nel conferire rifiuti nei giorni e nelle modalità previste. La settimana prossima se ne parla in Commissione Ambiente, poi partirà la campagna di informazione capillare sulle nuove modalità di raccolta. Ci sono state delle polemiche con l'associazione degli amministratori di condominio che temono di avere un aumento dei costi dovuto alla cooperativa che magari mette i rifiuti in strada per la raccolta. Ecco, basterebbe un accordo fra condomini su chi mette fuori il bidoncino o il bidone condominiale la mattina in cui passeranno a ritirarlo. Dopodiché l'amministrazione è chiaramente aperta e è disponibile anche a modificare il piano di raccolta porta a porta che ricordiamo non è ancora stato definito in modo puntuale. Quindi in questa fase in cui l'amministrazione sta incontrando appunto i amministratori di condominio si possono ancora effettuare delle varie azioni per andare incontro al cittadino e migliorare il servizio il più possibile. Il Comune rassicura sui costi che se all'inizio del nuovo sistema di conferimento rifiuti li eviteranno per l'azienda non faranno altrettanto per i cittadini che pagheranno la Tari senza alcun aumento. Le spese iniziali per adeguare il servizio verranno infatti recuperate con la vendita dei rifiuti a chi dovrà differenziarli. La raccolta differenziata in una prima fase ha un costo più elevato rispetto al sacco nero a cui siamo abituati. È un costo che però nell'arco del triennio tende ad avere una campana discendente. Lo sforzo dell'amministrazione però in questo triennio è quello comunque di non alzare la tassa dei rifiuti rispetto all'anno precedente. E quindi questo comporta appunto il fatto che il cittadino debba in qualche modo contribuire con un banale sforzo che è quello di ricordarsi di mettere all'esterno dell'abitazione il bidone. E quindi E quindi